salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi ci troviamo all'interno di una volkswagen antiroc e andremo a disattivare la spiglia della luce della cintura di sicurezza come in questo caso la cintura non c'è quindi non l'abbiamo messa andiamo a disattivare tale funzione per fare tale funzione dobbiamo utilizzare l'obd 11 io in questo caso l'obd già l'ho collegato dalla macchina perfetto e andremo ad aprire l'applicazione obd 11 come sempre allora andiamo nell'applicazione obd 11 e andiamo a fare la scansione tutte le centraline in questo caso la scansione già l'ho fatta per recuperare un po di tempo sul video che altrimenti comunque facendo la scansione comunque impiega più tempo anche per il video tempo inutile in questo caso andiamo nelle centraline della macchina e andiamo in questo caso nel quadro strumenti della 17 perfetto andiamo in accesso di sicurezza e andremo a mettere questo numero 47 4 7 1 1 5 ok codice di accesso accettato poi andiamo in adattamento andiamo andiamo qua in circa scriviamo allora avviso no un attimo allora cinture proviamo in cinture ecco a disattivazione allarme c2 di sicurezza perfetto selezioniamo in questo quadro disattivazione allarme c2 di sicurezza sta scritto no andiamo a fare si vedete che nel quadro c'è la lucetta perfetto adesso vi farò vedere ecco qua una volta che andiamo a confermare perfetto adattamento accettato e anche la luce vedete se è tolta perfetto disattivare la cittura di sicurezza ciò non vuol dire che non dobbiamo mettere la cintura anzi io la cintura come sempre consiglio di metterla metterla sempre io la metto sempre e ad ogni modo è solo diciamo andiamo a disattivare quel fastidiosissimo bip della cintura ma non significa che non dobbiamo mettere la cintura la cintura va sempre messa mi raccomando io l'ho staccata questa funzione qua perché delle volte anche se vado a mettere il computer sul lato destro qualcosa di pesante il sediolino mi legge che c'è un peso e quindi inizia a suonare la cintura anche se non c'è nessuna persona solo per questo motivo qua io l'ho staccata ma la cintura come sempre vi consiglio di metterla sempre ok ragazzi questo è stato un video comunque abbastanza semplice e abbastanza facile da fare come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale condividere il video mettere un mi piace e se vi è utile scrivete qualcosa nei commenti se è quello che posso fare vi risponderò nei commenti ok ragazzi ciao ragazzi al prossimo video